Pieraccioni non sarà venuto a venere la giostra, però è stata un gran successo di pubblico e di incasso? Assolutamente sì, abbiamo i dati definitivi, più di 100.000 euro di incasso, più di 5.200 persone, 5.208 persone tra posti in piedi e posti a sedere, abbiamo superato abbondantemente il risultato dell'edizione dell'anno scorso. Fra l'altro è stata una bellissima giostra, conclusasi agli spareggi, grande festa e con l'incognita buratto che vi ha tenuto in sospeso per tutta la settimana e che però è stata risolta grazie a chi? È stata risolta tra giovedì e venerdì, quindi già da giovedì eravamo tranquilli, è stata risolta grazie all'impegno volontario, questo è molto importante, di una serie di persone che amano la giostra, in particolar modo l'artigiano Enzo Scartoni, la ditta Lemi con il volontario Cerofolini, insomma un impegno straordinario, un ingegnere che ha sovraintesa i lavori, quindi davvero un bel impegno di squadra che ha permesso al buratto di funzionare e la manifestazione di realizzarsi nel miglior modo possibile. E per settembre sarà cambiato l'automa? Faremo un incontro con i tecnici comunali, con i professionisti volontari che dicevo poco anzi, l'istituzione, i rettori, decideremo cosa fare, se questo buratto sarà in grado di funzionare a settembre, manterremo questo con la certezza tecnica, con una relazione precisa che attesta il funzionamento oppure andremo alla sostituzione.